Migliorare l'offerta commerciale e affrontare più forti le sfide del mercato. Con questi obiettivi, i commercianti ed esercenti di Castelgomberto hanno mostrato un buon interesse per i bandi loro dedicati, dal distretto del commercio locale ricevendo un contributo complessivo di oltre 50.000 euro. Il distretto del commercio è un progetto forte che porterà ancora risorse, quindi posso dire che è solo un inizio di un lungo percorso. Il distretto del commercio di Castelgomberto di recente ha messo in campo quattro specifici bandi dedicati alle imprese del commercio locale. Quattro macro aree, efficientamento energetico, innovazione tecnologica, ammodernamento e c'era un bando anche per le start-up. 11 sono state le attività ad aderire a questo progetto con investimenti e rimborsi superiori a 50.000 euro. Prossimamente per le imprese locali sono previste ulteriori azioni da parte del comune di Castelgomberto e dei nove partner del distretto del commercio per un importo complessivo di ulteriori 138.000 euro. I negozi sono un punto fondamentale per rendere vivo un paese insieme con tutte le altre attività e quindi con il distretto del commercio abbiamo tentato di facilitare e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle attività commerciali.